Fenomeno che affascina quello dell'eclissi di sole, ma ogni volta viene accompagnato da strani presagi. Succede anche questa volta. Sei minuti senza luce. Il sole verrà oscurato dalla luna per l'eclissi totale più lunga di questo secolo. E' quello che avverrà tra poche ore. Un fenomeno visibile in Asia e che avrà il suo culmine in Cina. Da settimane su internet è partito il tam-tam. Insieme a questa eclissi straordinaria potrebbero verificarsi altri eventi come terremoti e tsunami. A scatenare la paura e l'allarmismo è la prossima sede della fatidica data, il 2012, indicata dal misterioso calendario Maya come fine dei tempi. Ma non solo. Ci sono anche strani avvistamenti nei cieli. Come questo, ripreso lo scorso maggio a Padova, un piccolo secondo sole. E tra qualche mese, dicono i siti non ufficiali di astronomia, diventerà visibile ad occhio nudo. Potrebbe trattarsi del famigerato pianeta X, l'ipotizzato decimo pianeta del sistema solare che altera le orbite di Nettuno e Urano. Quello che gli antichi sumeri chiamavano Nibiru sarebbe in realtà una nana nera, cioè una stella che si è spenta, con un suo seguito di pianeti, forse 6 o 7. La sua ellittica, molto allungata, la porterebbe ad avvicinarsi al nostro sole ogni 3600 anni, provocando sconvolgimenti cosmici. E adesso sarebbe per tornare.